Domenica 13, una delle novità di questo Vintage Festival, una gara tra barman. Praticamente si struttura una gara dove ci sono degli esperti che faranno i loro cocktail rivisitati, quindi cocktail degli anni 40, 50, 60 che andavano più in voga e saranno valutati da una giuria di esperti. Cocktail a tema quindi che saranno adeguati a quello che è il periodo vintage appunto. Esattamente, ogni concorrente è pur libero di prendere una ricetta e rivisitarla a modo suo. Quindi ci sarà un vero e proprio spettacolo, una sfida a colpi di cocktail e sarà divertente proprio vedere le preparazioni. Diciamo che il barman oggi giorno è proprio un intrattenitore, quindi spereremo di trovare dei ragazzi dove con le loro tecniche e il loro carisma riusciranno sicuramente a garantire uno spettacolo divertente. Ovviamente ci sarà anche la possibilità poi di degustarli questi cocktail. Ovviamente sì, ci sarà l'opportunità di farlo in Piazza San Francesco e al nostro locale allo Spirit San Girolam. Facciamo un esempio di un cocktail vintage. Un White Lady è l'esempio perfetto, valorizza anche un gin che viene prodotto nella nostra zona e verrà riproposto in chiave moderna. Ecco, com'è fatto il White Lady? Il White Lady è composto da gin, triple sec e succo di limone.